Ciao ragazze, in questo video vi parlerò del kit anticellulite di Collistar quando vi avevo fatto vedere questo kit nel video haul in tantissime mi avete chiesto un'opinione su questo prodotto e quindi ho deciso di farci proprio un video dedicato anche perché ho terminato ormai le capsule sono a buon punto per il super concentrato e quindi ho deciso proprio di farci una review specifica anche perché magari vi può essere utile visto che siamo nel periodo estivo magari potrà essere utile nei prossimi anni a chi appunto cercherà una recensione su questo tipo di prodotto io l'ho comprato sul sito di Collistar e non in negozio perché sul sito se vi iscrivete alla newsletter avete immediatamente lo sconto di 10 euro quindi invece di 35 euro l'ho pagato 25 euro in più la spedizione era gratuita quando io l'ho acquistato e spesso fanno comunque promozioni sulla spedizione ho scelto questo kit nonostante appunto non sia bio non abbia comunque un buon inci soprattutto gli attivi puri poi vi parlerò del super concentrato snellente ma comunque sia gli attivi puri hanno una base siliconica ecco perché non avevo voglia questa estate sinceramente di spalmarmi creme star lì io non sono una persona molto costante diciamo su creme eccetera eccetera quindi non avevo già poi ho anche altri oli che devo terminare quindi non avevo voglia di comprarmi creme gli altri anni avevo utilizzato la crema Anthos anticellulite che era ottima avevo in mente di comprare quella Alchemin la 90-60-90 però sapendo che appunto non ho voglia soprattutto col caldo di star lì a spalmarmi creme eccetera eccetera ho pensato che potesse essere un'alternativa comunque a questo kit anche perché appunto l'avevo trovato a buon prezzo il kit è composto dagli attivi puri che sono delle capsule attenzione non sono delle capsule da ingerire ma sono delle capsule che io ho finito quindi comunque vi farò vedere la clip di quando avevo acquistato il prodotto quindi vi faccio vedere come sono proprio le capsule si spezzano diciamo c'è la parte sopra che si toglie e hanno all'interno proprio tipo una sorta di crema cremina gel diciamo in cui appunto potete spalmarlo attenzione non sono quindi delle capsule da ingerire ci tengo a precisarlo perché io quando tempo fa avevo visto questi tipi di video parlando di capsule appunto pensavo si ingerissero invece assolutamente no sono dei prodotti che appunto sono delle capsule che vanno staccate diciamo e poi esce tutto il prodotto da spalmare oltre agli attivi puri il kit è composto anche dal super concentrato anticellulite snellente notte che è tipo un gel che si assorbe tra l'altro immediatamente fatto con il contagocce molto molto utile parliamo prima degli attivi puri sono all'interno 12 capsule quindi che vanno utilizzate ogni giorno per due settimane ho deciso proprio di prenderli perché innanzitutto è un'azione d'urto quindi si tratta semplicemente di due settimane quindi non è una roba da dover utilizzare per un anno intero quindi bisogna essere super costanti sono comunque prodotti da utilizzare due settimane quindi anche se hanno alla fine un sacco di siliconi perché ce li hanno bisogna dirlo però appunto sono prodotti che vanno sul corpo non sul viso e si tratta semplicemente di due settimane sapete che a me piace comunque principalmente utilizzare prodotti bio prodotti con buon inci però per alcune cose come in questo caso diciamo ci chiudo un occhio le capsule veramente hanno una consistenza particolarissima non saprei neanche come definirla perché non è una crema ma non è neanche un gel probabilmente una via di mezzo io lo mettevo in genere nel pomeriggio quindi partivo comunque dalla caviglia mi facevo tutto un bel massaggio e mi concentravo principalmente appunto nelle zone dove ho un po' di cellulite ecco io sono abbastanza fortunata nel senso che non ho una cellulite evidente fortunatamente non ho una cellulite cioè insomma la mia cellulite è una cellulite io definisco blanda perché fortunatamente non si vede a occhio nudo quindi insomma ho deciso ho optato anche per questo prodotto anche perché non mi serve chissà che cosa quindi questa è proprio un'azione d'urto che va fatta per due settimane che quindi io ho voluto fare perché appunto siamo in estate e secondo me questo tipo di prodotto è utile appunto da utilizzare magari una volta all'anno solo nel periodo estivo ecco non per sempre ecco io non lo consiglierei di utilizzarlo per tutto l'anno per sempre magari appunto nel periodo estivo si prende a giugno si fanno queste due settimane di azione d'urto e via una capsula basta per tutte e due le gambe dalla caviglia compreso fino a tutto il sedere io onestamente non pensavo minimamente la capsuletta era, non so, è tipo grossa così non pensavo sinceramente potesse bastare per tutta la gamma in realtà sì e il prodotto non si assorbe subito ma è proprio un prodotto che va massaggiato una volta poi massaggiati quei 5-10 minuti il prodotto si assorbe un prodotto che è davvero molto facile nell'applicazione e soprattutto efficace ragazze perché quella poca cellulite che avevo non dico che non c'è più perché non voglio assolutamente dirvi che questo prodotto fa miracoli quindi se avete la cellulite prendete questo vi scompare però aiuta davvero tantissimo sì è vero che non ho una cellulite che si vede tantissimo però avevo una zona proprio sotto le chiappe diciamo così in cui c'era proprio la classica zona buccia d'arancia nel giro di una settimana utilizzando proprio costantemente questa capsula è sparita quindi veramente questo prodotto mi è piaciuto moltissimo ve lo consiglio non ve lo consiglierei come vi ho detto proprio per tutto l'anno ma per l'estate lo prendete in estate ve lo utilizzate per quelle due settimane per la zona soprattutto a buccia d'arancia ha funzionato un sacco queste capsule anticellulite sono costituite da caffeina e descina la caffeina è un principio anticellulite per eccellenza perché infatti è contenuta in tantissimi altri prodotti anticellulite mentre l'escina è un estratto dell'ipocastano favorisce il drenaggio migliora la circolazione non me lo ricordavo più quindi sto leggendo protegge e rinforza i vasi sanguini ma poi tantissime altre cose l'odore degli attivi pure tra l'altro secondo me è buono una ragazza mi aveva scritto che per lei era un cattivo odore in realtà secondo me sa di caffè quindi ha un buon profumo tra l'altro una sera me lo stavo spalmando e il mio ragazzo diceva ma chi è che sta facendo il caffè a quest'ora? ecco era lui quindi per me comunque hanno una profumazione che appena almeno appena si apre si sente questo odore di caffè poi ovviamente spalmando spalmando non rimane comunque sul corpo ora parliamo invece del super concentrato anticellulite snellente ovviamente un pochino l'ho utilizzato insieme alle capsule questo è di notte quindi lo mettevo prima di andare a dormire e ora che ho terminato le capsule già da un po' praticamente sto utilizzando questo ogni notte prima di andare a dormire questo invece è un gel un gel che si assorbe all'istante non ha bisogno di massaggio come le capsule ma è un prodotto fighissimo secondo me perché oltre ad essere rinfrescante si assorbe proprio all'istante diciamo quindi ne basta tra l'altro pochissimo sì ci vuole magari due o tre minuti di massaggio ma niente di più ha l'alcol all'interno e quindi è un prodotto che evapora subito quindi non ha bisogno di chissà quale massaggio mi sta piacendo tantissimo anche questo proprio perché se sono prodotti molto facili e veloci nell'applicazione non hanno bisogno di troppo tempo a star lì a massaggiare a massaggiare eccetera questo in particolare si assorbe subito e lo metto appunto la notte prima di andare a dormire con questo prodotto mi concentro soprattutto nelle zone più critiche quindi non sto a metterlo su tutta la gamba ma diciamo dal ginocchio in su sedere compreso diciamo così questo qua a differenza degli attivi puri invece non ha un incide in malaccio diciamo così comunque non ha siliconi non ha paraffina ecco quindi ho deciso di prenderlo anche per questo il super concentrato attivo snellente invece ha una profumazione fresca un po' dolce non stucchevole però piacevole ecco da applicare anche la profumazione molto piacevole di questo prodotto da quello che appunto dicono il prodotto va a agire la notte devo dire che appunto da quando uso questi prodotti le mie gambe sono più belle sono più compatte sono più lisce sono più sode effettivamente l'azione snellente non l'ho ancora vista però ecco l'azione snellente ragazze prendetela un po' con le pinze tenete presente che sì se utilizzate questi prodotti comunque le gambe sono più compatte più lisce più belle comunque da vedere ecco come aspetto esteriore bisogna vedere però appunto quanto durerà questo effetto quindi vi farò sapere sicuramente più avanti quando avrò terminato anche il super concentrato attivo snellente se appunto questo effetto dura lungo oppure non so dura magari solo l'estate dura quelle 3-4 settimane vi farò sapere e vi terrò aggiornate quindi ragazzi questa è la mia recensione che spero vi possa essere stata utile spero di non aver dimenticato nulla nel caso fatemelo sapere nei commenti che io ovviamente cercherò di sciogliere i vostri dubbi ovviamente non dovete per forza prendere il kit ma i due prodotti sono venduti separatamente gli attivi puri però non mi ricordo sinceramente quanto costano e neanche il super concentrato attivo snellente che però questa diciamo è una mini taglia da 75 ml ma viene venduta ovviamente nel formato in full size se lo prendete separate non so però quanto vi viene a costare questo kit se lo prendete sul sito 25 euro appunto con i 10 euro di sconto secondo me è davvero un buon affare ragazze questo è tutto io spero che il video vi sia stato utile vi sia piaciuto vi mando un grossissimo bacio e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti